L'ERDA ha tentato da Miccoli e Boiasino, due big per la squadra che affronterà il Barletta nel derby che attende i giallorossi al Via del Mare. La squadra a Lecesa ha ritrovato la vittoria in Coppa Italia e ora cerca il successo anche in campionato dove ferma a zero punti in classifica preceduta proprio dalla Barletta. Un derby che può rilanciare soprattutto le ambizioni della squadra salentina, chiamata a scalare posizioni in classifica e ad avvicinare i posti che garantiscono la qualificazione ai playoff, sono ben otto. Il tecnico giallorossolerda sta valutando l'ipotesi di schierare la squadra con il 4-4-2, uno schieramento comunque elastico che si presterebbe a variabili comunque rodate durante la settimana. Un assetto che avrebbe in Miccoli e Boiasino le principali novità. Il capitano manca dalla partita contro il Catanzaro quando dovete abbandonare il campo già nel primo tempo per un problema alla coscia sinistra che oggi sembra completamente riassorbito, come dimostra la regolare o quasi preparazione del calciatore. Boiasino invece è assente dalla partita contro l'Aquila, sebbene sia stato convocato anche per la trasferta di Benevento, ma non utilizzato dall'ex allenatore Moriero. L'ERDA sembra intenzionato a tornare alla difesa 4, ancora indisponibili ben ci venga Rullo. Il tecnico giallorosso si affiderà, come domenica scorsa, a Sales e Lopez, mentre i centrali saranno Martinez e Diniz. L'ERDA non potrà contare su D'Ambrosio e Melara, entrambi fermi per squalifica. A centrocampo gli esterni dovrebbero essere Ferreira, Pinto e Bellazzini, quali potrebbero scambiarsi di posizione anche a gara in corso. Al centro, come detto, potrebbe rivedersi Boiasino. L'uruguayano rientrerebbe dopo tre partite. La novità sostanziale potrebbe essere rappresentata dalle consegne che l'ERDA affiderà al centrocampista uruguayano. L'ex Moriero lo preferiva in un ruolo che ne limitava molto il raggio d'azione. Con Amodio o Salvi, l'ex Napoli potrebbe avere più libertà ed essere anche più incisivo nella manovra offensiva. Tra i dubbi di l'ERDA ci sono gli uomini da impiegare al centro, con tre calciatori in lizza per due maglie. Amodio, Salvi, Boiasino, mentre Sacilotto dovrebbe sedere inizialmente in panchina. In attacco Micoli e Beretta con quest'ultimo favorito su Zigoni. Se l'ERDA dovesse decidere di non schierare Micoli al centrocampo si libererebbe un altro posto. In quel caso Bellazzini agirebbe da seconda punta.